La mia chambre ha la forma di una casa Il sole passa sui braccia per la finestra Questo spettacolo è diviso in scene, sono tre atti e il primo ingresso è fatto da solo loro due Ci sono dei colori ben precisi, la scenografia è tutto spettato nei dei marroni e io ho inserito piccoli colpi di colore in ogni scena Lei è la signora Zittel e lei Ertha sono la governante e la sua assistente La seconda scena ci sono le due figlie del signor Schuster e il fratello e il Renato Carpentieri e poi nel finale arrivano gli invitati a questa scena e la vedola Io voglio solo l'oublier e poi io fiume Grazie a tutti!